Tutto è pronto a Parigi per la cerimonia d'apertura della 33esima edizione dei giochi olimpici. Occhi puntati sui 32 atleti veneti in gara, dal nuoto al ciclismo, dall'atletica alla pallavolo. La provincia è maggiormente rappresentata a Vicenza con ben 12 campioni impegnati nelle competizioni. A seguire Verona con 7 atleti, 6 per la provincia di Padova, 3 per Venezia e Treviso e un atleta per il Rodigino. La parte del Leone la fa sicuramente l'atletica con 11 rappresentanti, tra loro la Vicentina e Lisa Molinarolo per il salto con l'asta, ma possiamo inserire tra loro anche Marcel Jacobs, Marco Tamberi e Larissa Iapichino che garaggeranno per le fiamme oro di Padova. Grandi aspettative anche dal nuoto con la campionessa Montebellunese Margherita Pansiera e il collega vicentino Thomas Ceccon, già argento e bronzo ai giochi olimpici di Tokyo nel 2022. Per quanto riguarda il ciclismo attesa per la terza Olimpiade di Elia Viviani con i suoi 35 anni tra gli atleti più maturi di questa manifestazione, non dimentichiamo poi la pallavolo con Paola e Gonu tra le file della nazionale femminile e se poi volessimo allargare il quadro, impossibile non menzionare la divina Federica Pellegrini, la pluricampionessa di nuoto di Spinea, a Parigi come membro del Comitato Olimpico Internazionale.